Fino ad oggi vi ho sempre presentato le immagini di Plutone che la New Horizons ci sta inviando, ma non dimentichiamoci della presenza di Carunte, il suo satellite. Carunte è altrettanto interessante e affascinante e le foto ad alta risoluzione che ci sono arrivate pochi giorni fa ci mostrano un corpo celeste della storia complessa e violenta. Quello che credevamo fosse un mondo monotono si sta dimostrando tutt'altro. In queste immagini vedete paesaggi incredibili e inaspettati, montagne e squarci più grandi del Grand Canyon, frane a variazioni di colore e tantissime caratteristiche davvero spettacolari e uniche. Pensavamo, ha detto Ross Beyer della NASA, che la probabilità di vedere strutture così interessanti su un mondo così lontano dal Sole fosse bassa, ma non potrei essere più contento di quello che vedo. Le foto scattate dalla New Horizons ci mostrano l'emisfero di Carunte rivolto costantemente verso Plutone. Le foto rivelano nuovi dettagli e finora sconosciuti, ad esempio una fascia di fratture Canyon che si estende per oltre 1600 km nell'emisfero nord del pianeta. Una spaccatura che è quattro volte più grande del Grand Canyon e in alcuni punti profondo il doppio. Questo sistema di spaccature fornisce interessanti e importanti indizi sul passato geologico di Carunte. È come se l'intera crosta di Carunte si fosse spaccata per un qualche motivo sconosciuto. In proporzione, questa struttura è come la Valles Marineris di Marte. Le immagini ci mostrano anche una pianura a sud del canyon chiamata Vulcan Planum che mostra pochi crateri, come se in questa regione la superficie fosse stata plasmata di recente. Un'attività in grado di cancellare i crateri da impatto possono essere i fenomeni di criovulcanismo, un'ipotesi che gli scienziati stanno appunto analizzando. Si sta valutando anche la possibilità che all'interno di Carunte, in passato, ci sia stato un oceano di acqua che si sia ghiacciato. Il conseguente cambiamento di volume avrebbe spaccato Carunte permettendo a una sorta di lava a base di acqua di arrivare in superficie. Insomma, la missione New Horizons continua a stupirci. Una missione davvero unica che ci sta fornendo una mole di dati davvero impressionante e che terrà occupati i ricercatori per anni. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.